Tu scendi dalle stelle, ore del cielo, e vieni in un agro dal freddo al gelo. E vieni in un agro dal freddo al gelo, oh bambino mio divino, io ti vedo qui a crema, oh Dio beato, hai quanto ti costo l'avermi amato, hai quanto ti costo l'avermi amato. Con questo canto vi auguro buongiorno e per tutto il giorno e buon Natale. Gesù da ieri sera è in mezzo a noi. Meditiamo stamattina il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetti 1 a 18, il prologo di Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di Lui. Non era Lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di Lui. Eppure il mondo non l'ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del figlio unigenito, che viene dal Padre pieno di grazia e di verità. Giovanni li dà testimonianza e proclama. Era di Lui che io dissi, colui che viene dopo di me e avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il figlio unigenito, che è Dio, è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Ecco, abbiamo, è questo, è il prologo di Giovanni, in questo giorno, è Santissimo della nascita del Salvatore. Potremmo sottolineare alcuni elementi. Il primo elemento che vorrei sottolineare per la nostra meditazione, proprio l'inizio, la parola che apre questo brano. In principio era il Verbo. In principio, quando parliamo di questo principio, ci riferiamo anche a Genesi 1.1, quando Dio creò il mondo in principio. Dunque, per dire, questo bimbo che è nato, questo Verbo, non assume soltanto la condizione umana, la carne umana, non soltanto si inserisce nella storia dell'uomo, ma assume tutta la storia, tutta la realtà umana, compresa anche la creazione, la creazione in principio. E' proprio questo Verbo che ha creato ogni cosa. Dunque, lui stava all'inizio della creazione. Dunque, lui assume tutto, assume tutto appunto, che lui sarà il re dell'universo. Dunque, non viene soltanto nella storia umana, ma anche di ogni realtà umana. L'altro elemento che posso sottolineare è il Verbo, questo Verbo che si è fatto carne. Il Verbo può essere il Logos, può essere il progetto. Giovanni, proponendoci questo prologo, ti invita a leggere questo Verbo, questo Logos, come progetto di Dio. Per dirci, ecco, ciò che era come progetto, finalmente si realizza. Questo Verbo è in mezzo a noi. E questo Verbo ha preso la carne umana, si è incarnato nella storia dell'uomo. Dunque, ecco, il progetto di Dio che si realizza. Il popolo che camminava nelle tenebre, l'abbiamo seguito ieri, e cammina nella luce oggi. Ecco, per dire, ecco, Israele, il popolo eletto, che piangeva, che gridava al Signore durante tutto il periodo di Avento, che abbiamo sentito, il grido del popolo che aspettava proprio il Messia, ecco, oggi questo progetto si realizza. Non sarà più una parola, come abbiamo sentito nella seconda lettura di questa liturgia, la Lettera agli Ebrei, che in molti modi, nel passato, Dio parlava per mezzo dei profeti, ma oggi Lui parla per mezzo del Suo Figlio. Ecco, dunque questa parola che in principio diventa una realtà per concludere, già per compiere, realizzare, diciamo, il progetto dell'essere umano. E l'ultimo elemento che vorrei sottolineare, per l'ultimo, diciamo così, è la meta, la missione di questo figlio. Questo figlio viene nel mondo proponendoci la sua parola, colui che credere in Lui avrà o riceverà il potere di diventare figli di Dio o figlio di Dio. Dunque, la meta di questo bimbo che è nato, di questo verbo che è in mezzo a noi, è di fare di ciascuno di noi figlio di Dio. Figlio di Dio. Non dalla volontà umana, ma dalla volontà di Dio. E qui dunque tocca accogliere questa sua parola che farà di noi proprio figli di Dio. L'ultimo elemento la testimonianza di Giovanni Battista. Giovanni rende testimonianza alla luce anche noi. Cerchiamo di essere i messaggeri, come ha detto la prima lettura di questa liturgia, quanto è bello i passi dei messaggeri. Cerchiamo di essere messaggeri della buona notizia che Cristo è in mezzo a noi dando una buona testimonianza. Vi auguro una buona e santa giornata, buona festa, buona domenica, santo Natale a tutti. Che Dio vi benedica.